Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi anche oggi posizione del nuovo Fortbyte in tempo reale con l'uscita trovate sempre tutti i Fortbyte qua sul canale oggi ci chiede di alzare la palla della discoteca con l'aiuto di un amico e la palla ragazzi si trova come vedete qua nella parte esatto come sta facendo questo ragazzi nella casa dei nemici proprio dietro spiagge snob il Fortbyte apparirà proprio qua davanti io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto in live fra poco ciao